Non ci sarà sicuramente la grande festa dello Sport Days. Il Covid-19 è inflito anche sulla manifestazione che ogni anno aggrega grandi e piccini e che fa raccogliere ad Avellino numeri a dir poco straordinari. L'evento ideato da Giuseppe Saviano, presidente del CONI provinciale e che ha visto atleti di ogni disciplina confrontarsi ed esibirsi per 18 lunghi anni, quest'anno non si svolgerà nel prossimo mese di giugno. Il virus ha zebellato dal calendario cittadino una tappa sportiva che era diventata vanto per l'intero territorio. Nel Campo CONI, nel Parco Santo Spirito, saranno palcoscenico di quella manifestazione che per anni, tra maggio e giugno, ha fatto incontrare campioni provenienti da ogni parte d'Italia. Appuntamento ormai storico e che ha fatto divertire anche i più piccoli con le famose scalate installate dai vigili del fuoco. Così come non si svolgerà nemmeno la maratona classica che ha visto arrivare campioni da ogni dove sulla nuova pista d'atletica che doveva rappresentare il vero fiore all'occhiello dell'ormai storico appuntamento.